Ripartono dall'ITI di Pratola Pelinia gli studenti dei corsi ITC e ITG in attesa di trasferimento a Sulmona. A metterlo nero su bianco è stata la dirigente scolastica del Polo Fermi, Luigina D'Amico, che ha diramato in giornata una circolare che dispone la ripresa in presenza delle attività didattiche a partire dal lunedì 19 settembre per ragionieri e geometri e per gli studenti dell'ITI di Pratola. La preside ha raccomandato che tutto il personale docente ATA è tenuto a rispetto della nuova organizzazione del presso al divieto di accesso nelle zone inibite e indicate da posti da segnaletica e ancora che il personale docente illustri minuziosamente a rispetto di tali regole e le nuove planimetrie a tutti gli studenti nella giornata del 19 settembre. Si dispone pure che tutto il personale docente ATA vigili scrupolosamente sul divieto delle zone inibite. Nella giornata di ieri, Comitato Delino Morandi, prendendo in carico le diverse stanze delle famiglie, aveva chiesto una proroga alla DAD. Proroga non accordata, ma si sta cercando di spingere per il trasloco, seppur con imperdonabile ritardo. Nella giornata di lunedì saranno ultimate le operazioni di tenteggiatura dell'ex convento di Sant'Antonio, nuova serie provvisoria dei ragionieri e geometri. Come pure la provincia dell'Aquila procederà ad affidare l'incarico per le operazioni di trasloco all'impresa reclutata con apposita procedura. Si punta un rientro per la giornata di giovedì, anche se gli addetti lavori non escludono che passerà un'altra settimana. D'altronde non sono i tre o sette giorni per il trasloco a pesare come un macigno, ma gli otto anni trascorsi dalla chiusura della sede storica.